Vabbè 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 Oggi è un giorno speciale È un giorno speciale per voi Ma è un giorno speciale per tutta la comunità degli alpini Oggi state per ricevere I luoghi più suggestivi delle Alpi Cormaier Località cara Il DNA delle sfide che oggi sono necessarie Del Monte Bianco, il tetto d'Europa Un tempio naturale della montagna Oggi in ferma iniziale del corso Monte Vodice 3 Voi avete concluso con fatica L'area addestrativa di Pollen E oggi vi rivedo con orgoglio Vi guardo negli occhi E finalmente vi ritrovo soldati di montagna Un approccio innovativo e moderno Vuoi trasverserci C'è uno stile e chieda Un fatto di spirito di sacrificio Passato dalla vita civile a quella militare Durante i quali grazie all'esempio e al supporto della catena di comando e degli scorsi Ci hanno insegnato a portare all'obiettivo Ci hanno insegnato a raggiungere la cima E la benedizione del cappellano di tutti Perché il processo che avete iniziato è un percorso iniziale Vi ho detto che vi abbiamo dedicato tempo E voi ci avete restituito risultati È vero, lo confermo Ma il percorso è ancora lungo Quarantatresima campagnia Indossare i cappelli alfini Però siccome è già tardi Domani mattina vediamo di incontrarci Troveremo un periodo in cui incontrarci tutti insieme Così facciamo due chiacchiere e riesco a salutare uno per uno tutti quanti Facciamo una foto un po' più vicini Com'è andata? Com'è andata? Ma vorrebbero? Vero? Un po' di talentuosi e un po' di volontari Un po' Sì Dai qui più vicini, più vicini Che adesso è finita la cerimonia Per terra Sei tutti i primi Buonoro Con le varie preveglia adderti Beh la robusta giovinezza Dai loro marre portifetti Scvirà un'indormida preferenza Oh, valore al PIN, difendi sempre la frontiera, e la sul confin, c'è sempre alta la bandiera.